Nessun passo indietro sul 41 bis per Alfredo Cospito e il ministro della giustizia Carlo Nordio a confermare la linea dura del governo sul caso che ormai da settimane ha fatto salire il livello di allerta sull'ordine pubblico. A Torino alcune decine di manifestanti hanno sfilato per le vie del centro fino al campus dell'università sotto lo sguardo delle forze dell'ordine. Di fronte alla violenza non si tratta, ha ribadito il guardasigilli. L'ondata di gesti vandalici prova che il legame tra il detenuto e i suoi compagni rimane e tenderebbe a giustificare il mantenimento del 41 bis. Dopo settimane che sentiamo dire che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono sacre e la politica non può e non deve minimamente intervenire, è quasi banale dire che noi dobbiamo aspettare la decisione della Corte di Cassazione. Intanto le condizioni di cospito, in sciopero della fame ormai da oltre 100 giorni, continuano a preoccupare. Il suo legale ha rivelato che l'anarchico ha deciso di sospendergli gli integratori alimentari che stava assumendo. Da una parte dunque il vulnos giuridico della vicenda, dall'altra la questione di ordine pubblico dopo le numerose azioni dimostrative della galassia anarchica. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi presiderà una riunione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo con forze di polizia e intelligence, ma non ci sarà, ha sottolineato, alcuna valutazione sulla procedura del 41 bis o sullo stesso cospito. Non ci sono motivi, adesso poi faremo un'analisi né per dire che va tutto bene, che quindi non è successo niente in questi giorni, che non ci imponga di riflettere su ogni ennazzamento possibile dell'attenzione, ma neanche, ecco, non è che siamo con la minaccia terroristica dietro l'angolo. Grazie a tutti.